Decine di lettere recapitate nei giorni scorsi ad altrettanti residenti di Manopello, in cui RFI annunciava l'inizio delle procedure di esproprio per realizzare il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma, hanno creato allarme ed agitazione. Il sindaco Giorgio De Luca si è visto costretto il 15 gennaio scorso a chiedere chiarimenti al commissario straordinario di RFI Vincenzo Macello per dare risposte ai suoi concittadini. Risposte che sono arrivate in questi giorni rappresentano una vera e propria rassicurazione per gli stessi cittadini non solo di quella zona della Val Pescara. Gli immobili e le pertinenze di via Barbanera, via Saccioli e Traverse infatti non saranno demoliti né espropriati nell'ambito del progetto di raddoppio ferroviario così come ha sottolineato lo stesso sindaco. Quante sono le abitazioni interessate da questi espropri che saranno demolite per dar vita al progetto? Saranno circa 20 abitazioni dove ci saranno circa 80 appartamenti di cui molti privati ma soprattutto tante abitazioni dove sono in affitto. Anche su questo noi ci stiamo preoccupando perché per chi si voglia affettuare e non vogliamo che questi abitanti vadano via da Manopello ci stiamo attrezzando insieme alla Regione affinché ci saranno costruzioni di edilizia popolare che hanno concordato in modo che permetteremo a loro una volta demolite le abitazioni di trovare un alloggio adeguato. Il Comune di Manopello che cosa ha chiesto a RFI e che cosa ha ottenuto? Ma abbiamo ottenuto tantissimo. Innanzitutto non abbiamo diviso la città. Divide la città, il primo progetto iniziale non avendo più un collegamento diciamo dalla zona di Manopello Scalo una zona di Manopello Scalo diciamo nuova con questo sottopasso non solo non divide ma va a unire ulteriormente i due comparti di Manopello Scalo. Inoltre c'è una grande viabilità che ricongiunge anche attraverso la realizzazione di piste ciclabili rendendo una città molto più moderna e funzionale. E sulla vicenda è intervenuto in una nota anche il deputato democratico Luciano D'Alfonso il quale si domanda se si poteva evitare tutto questo. Certamente sì questa è la sua risposta. Chi avrebbe potuto farlo? La regione Abruzzo che avrebbe dovuto rivendicare la competenza a stabilire il percorso condiviso per la realizzazione dell'opera. Invece non ci ha messo una nota ha sottolineato D'Alfonso. Va ricordato che tra giugno e luglio scorsi la stessa regione si è fatta scippare dal governo amico tra virgolette un miliardo 465 milioni 170 mila euro destinati proprio al raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara, aggiunto infine D'Alfonso. Dal momento che siamo stati esclusi dai fondi PNNR che tutto sommato non sono fiero e contento perché altrimenti non avremmo mai fatto in tempo di finire quest'opera entro il 2026 quindi da ora a due anni. Noi ci auspichiamo a tutti quanti che venga fatto innanzitutto un progetto preliminare da Roma a Pescara su tutto e poi giustamente vanno trovati finanziamenti cosa significa? Che forse i tempi saranno abbastanza lunghi.